Mister Daniele Persico, un primo tempo in controllo, poi forse le motivazioni degli avversari e un po' di green time degli avversari hanno generato questo risultato? Sì, sono d'accordo con lei, faccio i complimenti al città di Pomezia per aver raggiunto la salvezza matematicamente, stanno festeggiando, l'hanno meritato. Noi abbiamo espresso un buon gioco, un po' di rammarico perché abbiamo giocato con dieci giocatori come avete potuto notare, non ho potuto fare dei cambi, mancavano sei giocatori, sei giocatori importanti e voglio fare un ringraziamento ai miei ragazzi che nella difficoltà hanno affrontato bene la gara e in buoni tratti della stessa hanno espresso un buon gioco. Mi diceva una squadra risollevata dai bassi fondi della classifica fino a una posizione di tutto rispetto dietro le grandi del girone, calcolando anche che è una squadra che viene da un campionato vinto di seconda categoria, quali sono le prospettive anche per il prossimo anno partendo da una base solida? Vediamo, adesso ragioniamo con i presidenti, i ragazzi sono stati eccezionali in questa saggione, nel momento iniziale di difficoltà si sono ricompattati e abbiamo risalito bene la classifica. In tutti i gironi di prima categoria siamo l'unica squadra che dopo otto giornate, quando sono subentrato, erano tra le ultime quattro e adesso siamo tra le prime cinque. Siamo al secondo migliore attacco, abbiamo battuto la seconda, la terza, la quarta in casa e devo dire in modo giusto, sempre esprimendo un'identità di gioco buona. Sono orgoglioso dei ragazzi perché non hanno mai mollato e hanno cercato di esprimere un'idea di gioco, ma voglio fare i complimenti al città tipo Mezzia per aver raggiunto una meritata salvezza. Andrea Settati abbiamo visto subito correre felicissimo dopo il gol, una felicità meritata. Sì, è stata veramente una liberazione per tutta la squadra, per la società e per tutti i miei compagni, quindi sono veramente contento. Qual è stato forse, c'è stato un momento che magari nella stagione un po' di sconforzo dove avete detto magari non ce la faremo a salvarci? Sì, è vero, ci sono stati dei momenti veramente duri dove abbiamo perso le partite anche che non maritevamo, però con l'aiuto dei mister, della società e tutto quanto ci abbiamo sempre creduto fino alla fine. Mister diceva che gli avversari comunque merito a loro perché non ci hanno regalato niente. È più bella questa salvezza dopo una partita comunque sofferta dove nessuno appunto vi ha regalato niente? Sì, sì, diciamo che è una vittoria molto più bella. È una salvezza, non dico che è come vincere il campionato, però è comunque una cosa bella, è una cosa da vivere. Diciamo.